Vacilla il sostegno di Donald Trump nei confronti del suo candidato alla Corte Suprema, Brett Kavanaugh, alla vigilia dell'udienza che lo vedrà protagonista. Christine Blasey Ford che accusa il giudice di molestie sessuali avvenute nel 1982 e pronta a testimoniare davanti ai giudici. Alla domanda della giornalista che chiede se sia ipotizzabile il ritiro della nomina di Kavanaugh, il presidente statunitense risponde se pensassi che fosse colpevole di quanto è imputato, sì, certo, ribadendo la sua speranza di poter attendere sino al chiarimento di tutte le questioni pendenti. Una terza donna, Julie Switnik, ha accusato il giudice di comportamento sessuale aggressivo negli anni Ottanta e parrebbe non essere l'ultima delle accusatrici. Signora Trump aveva difeso a spada tratta il prescelto respingendo le accuse, tuttavia democratici e manifestanti chiedono che il voto della Commissione Giustizia del Senato in merito alla conferma del giudice previsto per venerdì sia ritardato finché le accuse non saranno chiarite.